Nuova conquista per il fuoriclasse del Real Madrid a Cristiano Ronaldo. Il centramanti portoghese sembra infatti aver conquistato Kim Kardashian, la bella ereditiera americana divenuta celebre grazie al reality show sulla sua vita, in onda su E. Kim sarebbe stata vista prima allo stadio durante l'incontro fra Real Madrid e Almeria e poi paparazzato in un ristorante insieme a Cristiano Ronaldo. I beni informati assicurano che fra i due ci sia molta intimità e che la storia questa volta sia destinata a continuare. Come sui campi da calcio, anche in amore Cristiano Ronaldo si dimostra un golo d'oro infallibile.